Napoli boom di turisti ma pesano i rincari, le strutture ricettive fanno registrare il tutto esaurito in vista di ferragosto ma le presenze sono in parte frenate dall'aumento generalizzato dei costi. Le associazioni di categoria chiedono di migliorare i servizi ai viaggiatori. Caos al molo Beverello, ancora polemiche, esodo da porta di massa, salto ai traghetti e traffico in Tiltanapoli, disagi per la circolazione da Piazza Municipio al molo. Il consigliere Simeone, Otto Channel, avverte, serve la collaborazione dell'autorità portuale. Video social dalla cella, poggioreale un caso, almeno tre detenuti che registrano un filmato in diretta dal carcere mentre gli utenti inviano messaggi augurando loro di uscire presto. E' la denuncia presentata dal deputato Borrelli che ha invocato provvedimenti immediati. Polizia e lotta al degrado, a Benevento il piano funziona, primi risultati positivi per l'iniziativa promossa dal Comune. La città suddivise in quattro zone e cinque squadre diverse al lavoro. L'assessore Rosa sottolinea l'impegno della giunta Mastella per tutelare il decoro. Gestione dei rifiuti, a Velino si divide, nel mirino la costituzione di una nuova società che si occuperà del servizio. La minoranza contesta le scelte del sindaco Gianluca Feste accusa, promuove i suoi amici e isola politicamente la città. Vento e mare agitato, stop ai traghetti, a Salerno giornata complicata per i turisti diretti in costiera amalfitana. Le cattive condizioni del mare hanno bloccato molte partenze, assalto ai bus. Annullata anche la tradizionale processione della Madonna che viene dal mare. E questi erano i titoli di stasera, ben ritrovati con 8 Channel News. In apertura Napoli, regina del turismo, ma sulle vacanze pesano i rincari. Le associazioni di categoria chiedono più investimenti per i servizi. Vediamo. Nell'estate dei record, Napoli e la Campania fanno registrare il boom di presenze turistiche, ma anche dei rincari. Il capoluogo di regione macina numeri straordinari grazie al ritorno in grande stile, soprattutto dei viaggiatori stranieri. Pienone nelle strutture ricettive, nonostante l'aumento esponenziale dei prezzi per ogni aspetto legato alle vacanze. Abbiamo meno ospiti, soprattutto dovuti al fatto che il mercato interno, quello italiano, è condizionato da un aumento delle tariffe aeree di trasporto, come pure a seguito dell'aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse che sta riducendo i flussi turistici sul territorio. Napoli sicuramente avrà un sold out dovuto probabilmente a Ferragosto, però da una domanda last minute, last second. Nonostante gli ottimi riscontri in termini di presenze, però, le associazioni di categoria in vista del Ferragosto tornano a sottolineare la necessità di migliorare i servizi ai turisti. Restano i nodi strutturali di una difficoltà di garantire servizi efficienti, sia nella rete ferroviaria che subisce proprio in questo periodo delle difficoltà anche sulla linea storica Napoli-Salerno a seguito dei lavori a Monte Vesuvio, oltre che sulla Vesuviana che ha delle carenze strutturali che sono oggetto di impegno da parte della Regione, ma che di fatti stanno comunque determinando dei servizi e poi questo golfo ingolfato di veicoli natanti privati con tutta una serie di difficoltà, ma anche di garantire servizi efficienti per i viaggiatori che vogliono andare per le isole. Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 11 sulla strada provinciale nel comune di Mugnano del Cardinale. In Irpinia un trattore e un motociclista sono stati coinvolti. Nell'incidente purtroppo il motociclista, un giovane 33enne, è morto sul colpo a seguito dell'impatto tra i due mezzi. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Baiano e la Polizia Municipale di Mugnano del Cardinale per avviare le indagini sulla dinamica e chiarire le responsabilità dell'incidente. Il turismo in Campania, lo abbiamo sentito, entra nella fase calda, 80% di occupazione negli alberghi e dati record per l'aeroporto di Capodichino, notari. La Campania si prepara a vivere la fase più calda sul fronte turistico in attesa del pienone di Ferragosto. I numeri di queste settimane sono già da record a Capodichino. Nell'ultimo mese sono transitati un milione e mezzo di passeggeri e gli alberghi da settimane sono strapieni. A Napoli, nonostante i rincari, le strutture ricettive hanno raggiunto la soia dell'80%. Tantissimi gli stranieri che hanno scelto la Campania per le proprie vacanze, dati incentivati dal turismo Mordi e Fuggi, che quotidianamente garantisce una boccata d'ossigeno all'economia del territorio. Nemmeno il meteo incerto di questo fine settimana ha frenato l'onda lunga di agosto, con le spiagge che continuano ad essere la meta privilegiata da residenti e vacanzieri. Anche in questa domenica, nonostante il mare mosso, in tanti hanno scelto di trascorrere la propria giornata sui litorali campani. È bello prendere il sole, rilassarsi e direi una giornata ottimale. Sicuramente è una giornata di relax. Il tempo ci accompagna, questa è una delle temperature più ottimali per gustarti la giornata di mare. Bellissimo, bellissimo, il mare è agitatissimo, però il suo fascino c'è, che è anche pericoloso, però è bellissimo. Si può stare, c'è pure un po' di vento, al sole si resiste, se invece non c'era vento ci dovevamo bagnare, con questo mare era proibitivo. È meglio stare qua, anche se non c'è un po' di vento, però insomma si esce pure una cosa, perché siamo stati tutti... e sembri che il volo è un basto. E si è registrato un vero e proprio esodo da Porta di Massa a Napoli, assalto ai traghetti, la circolazione è andata in tilt, in un sabato con numeri da record, ma scoppia la polemica e il consigliere comunale Simeone avverte, serve la collaborazione dell'ente Porto. Vediamo. Sono giorni caldissimi a Napoli per il traffico tra piazza Municipio e calata Porta di Massa, l'area portuale dove si va a prendere il traghetto per le isole La Sicilia. Nel weekend più di 20.000 passeggeri verso le isole del Golfo e anche a Beverello si registrano code e disagi acuiti dai lavori di restyling. Feder Alberghi chiede maggiori controlli nei due scali cittadini e anche Nino Simeone, presidente della Commissione Mobilità al Comune di Napoli, sostiene la necessità di un intervento. È un tema di ordine pubblico. Al rientro scriverò immediatamente all'assessore De Jesu, al comandante della Polizia Municipale, alle forze dell'ordine per aumentare i controlli all'interno del porto, soprattutto nella zona di Porto di Massa, perché c'è una disorganizzazione, un caos totale. Non possiamo permetterci questo pessimo biglietto da visita dopo gli investimenti che sono stati fatti in tema di trasporti. Trasporti che stanno funzionando ancora a singhiozzo, mobilità che funziona malissimo, mi dicono di problemi, soprattutto anche di oggi, di traffico, di caos in quell'area. Non ce lo possiamo permettere, non è giusto, la città non lo merita e si devono da fare, soprattutto anche quelli del porto, perché l'ente porto non è una repubblica a sé. L'ente porto deve dare una mano e deve garantire insieme a noi che ci sia un normale flusso di turisti che vengono non solo dalle navi da crociera, non può essere soltanto la nave da crociera un problema dell'ente porto. Sono dell'avviso che De Jesu debba chiedere all'intervento anche dell'esercito perché siamo veramente a numeri enormi. Pensare soltanto all'aeroporto, parliamo di un milione e mezzo di persone nel solo mese di luglio e figurarsi agosto, non possiamo scherzare. Su questi temi non si può scherzare. Proseguono intanto le indagini in costiera amalfitana per ricostruire le cause della collisione in mare che ha provocato la morte della turista americana. Vediamo. La costiera amalfitana è il cuore spezzato in due per la tragedia avvenuta giovedì a largo del fiordo di furore e che è costata la vita all'editrice americana Adrienne Vogan. Nel dolore però il popolo della divina si è dimostrato dall'inizio solidale ed accogliente. Ad Amalfi è stata prestata la migliore assistenza possibile sin da subito, ha spiegato il sindaco Daniele Milano, che ha voluto rivolgere un ringraziamento a quanti si sono adoperati nel momento del bisogno ed un abbraccio alle famiglie colpite dalla tragedia. Di pari passo proseguono le indagini, la procura ha disposto nuovi accertamenti per ricostruire in modo certo la rotta e la velocità delle due barche. Risposte che potrebbero essere contenute negli apparati tecnici presenti sulle due imbarcazioni. Ulteriori accertamenti riguarderanno anche lo skipper trentenne che era la guida del gozzo su cui viaggiava la famiglia statunitense. Il giovane è indagato per omicidio e naufragio colposi. Gli investigatori hanno acquisito i tabulati del traffico telefonico e messaggistico del suo cellulare per verificare se stesse utilizzando il telefono al momento della tragedia. Inoltre è stato nominato un perito che dovrà purare se la positività ai test tossicologici abbia potuto influire sulle sue capacità di guida. Abbiamo ricevuto la segnalazione del video di una diretta social realizzata dall'interno del carcere di Poggio Reale. Nel video è possibile notare la partecipazione di almeno tre detenuti dei quali uno si esibisce addirittura in un canto mentre sullo schermo scorrono le chat della diretta dove i partecipanti gli augurano di uscire presto. Questa l'ultima denuncia del deputato Francesco Emilio Borrelli che si recherà nel carcere napoletano in settimana per il parlamentare è inaccettabile l'arroganza criminale e la sfrontatezza di chi ritiene di poter fare dirette social dalla cella come se nulla fosse nella certezza dell'impunità e in spregio di ogni regola. E prende corpo l'ipotesi dell'ennesimo suicidio in Irpinia dopo il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco di Avellino durante la notte del corpo di un uomo di 38 anni finito in un pozzo profondo circa 10 metri alla frazione passo di Mirabella e Clano. L'uomo privo di vita è stato ritrovato nel pozzo distante circa 100 metri dalla sua abitazione anche con l'ausilio del nucleo spelio alpino fluviale proveniente dalla sede centrale di Avellino. Il cadavere è stato affidato ai sanitari del 118 i quali lo hanno trasportato presso l'obitorio dell'ospedale Moscati. Primi risultati positivi per il nuovo piano di pulizia a Benevento su divisione in quattro zone e cinque squadre diverse a lavoro per colmare il gap con il passato. Sentiamo Cristiano Vella. Nuovo piano di pulizia per Benevento con la città divisa in quattro zone per tagli e spazzamento in contemporanea. Un sistema che secondo l'assessore all'ambiente Alessandro Rosa sta dando risultati soddisfacenti in questi primi giorni tali da portare in breve tempo a colmare il gap che si era accumulato nelle scorse settimane. L'idea è quello poi di uniformare il nostro piano di taglio al nuovo piano di spazzamento che abbiamo presentato ultimamente con Asia che prevede altresì il posizionamento di alcuni divieti sulle grosse arterie in cui sarà poi necessario il passaggio delle spazzatrici. Non avendo il bilancio approvato non avevamo materialmente i fondi quindi siamo andati in emergenza, un po' in affanno con l'aiuto di pochi che mi sento sempre di ringraziare perché non ci hanno lasciati soli. E piace ai cittadini anche il sistema di trasparenza adottato assieme ad Asia che vede la possibilità per i cittadini di controllare in tempo reale le operazioni nelle zone di residenza. Con le direttive a Rera praticamente tutti i cittadini hanno la possibilità di collegarsi al sito di Asia e a breve anche al sito del Comune in cui è presente la cartina della città. Ogni cittadino può mettere il nome della strada in cui abita una strada di interesse e lì è indicato dove e quando passerà lo spazzamento manuale o meccanizzato nella fascia oraria. L'affer rifiuti ad Avellino e scontro politico sulle nomine della nuova società la grande SRL, duro attacco dell'opposizione al sindaco Gianluca Festa. Vediamo. L'accelerazione che ha dato il sindaco Festa sulla nuova società dei rifiuti la grande SRL preoccupa l'opposizione consigliare. La cabina di regia che sta lavorando al campo largo del centro-sinistra per le prossime amministrative attacca duramente l'amministrazione comunale in una nota. Si tratta di una mossa sbagliata nel metodo e nel merito scrivono il sindaco ha approfittato dei clamori, dei frastuoni e delle luminarie dell'estate per sottoscrivere un atto i cui effetti destabilizzanti saranno presto subiti dall'intera comunità. Siamo contrari perché crediamo che in questo momento Avellino non solo si stia isolando dal resto della provincia e stia dando una svolta decisamente sovranista a quelle che sono invece i minimi ed essenziali servizi pubblici quali quello dei rifiuti e poi lo sta facendo nel peggiore dei modi dando vita a delle nomine assolutamente discutibili che non tengono conto del merito ma che anzi premiano la fedeltà al sindaco, a questa maggioranza e a tutti quelli in un certo qual modo la stanno sostenendo. Noi siamo convinti che Avellino avrebbe dovuto guidare il processo della Costituzione della Società dei Rifiuti Provinciale o comunque il percorso che prevedeva la provincializzazione completa del ciclo integrato dei rifiuti di questo non sta avvenendo e anzi quello a cui assistiamo è che di fronte a un presunto risparmio da parte dei cittadini probabilmente il servizio non sarà migliore. Il mare agitato a Salerno ha fatto saltare l'atteso appuntamento con la processione della Madonna che viene dal mare le avverse condizioni meteomarine hanno infatti costretto gli organizzatori ad annullare il rito religioso l'icona della Madonna è stata comunque collocata sul pontile in piazza Cavour e in serata è stata accompagnata in processione in piazza Sant'Agostino dove è stata celebrata la messa per via delle avverse condizioni meteo sospesi anche i collegamenti via mare con la costiera amalfitana disagi per tanti turisti. Fare rete e promuovere un'eccellenza del sannio è l'input che arriva da San Giorgio la Molara che in questi giorni ha celebrato il festival della Marchigiana. Maria Teresa De Lucia Benessere animale sostenibilità e turismo verde sono i temi al centro del convegno in programma oggi a San Giorgio la Molara per la chiusura della sedicesima mostra bovina di razza marchigiana IGP un grande evento inserito nell'ambito della festa della Marchigiana un vero e proprio festival quest'anno che oltre a degustazioni e appuntamenti con visite guidate alle stalle propone anche un momento di confronto tra gli esperti. Deve essere uno sviluppo del territorio di tutto il Fortone la comunità Fortone che dobbiamo fare sinergia per queste zone interne e sviluppare tutto il territorio in modo univoco di tutti. E' la nuova politica agricola comunitaria con la PAC 23-27 che ci invita a accelerare la transizione ecologica conservazione del paesaggio fa conoscere la storia la cultura di questa terra e l'angiare la produzione di carne di razza marchigiana in realtà a San Giorgio della Molara hanno già raggiunto grandi livelli di qualità delle carni. Abbiamo l'obbligo di dettare quella che è l'agenda per i prossimi anni per la zootecnia reduci da campagna a leva che ha avuto un successo nazionale sicuramente saremo quest'oggi tutti impegnati per far sì che le prossime iniziative abbiano delle rigadute importanti anche e soprattutto economiche per le aziende di questo territorio. che vanda quasi il 50% dell'allevamento nazionale di marchigiana quindi va tutelato salvaguardato e protetto dagli attacchi che oggi purtroppo la zootecnia riceve quotidianamente. Abbiamo decisamente argomento Salerno rafforza i controlli contro gli abusivi del turismo vediamo. Il personale è poco e le incombenze sono molteplici ma il settore annona del comando di polizia locale di Salerno è al lavoro per stanare gli abusivi del turismo un impegno sottolineato dall'assessore Alessandro Ferrara e richiesto a gran voce anche dagli operatori del settore che ribadiscono la necessità di tutelare gli imprenditori onesti viste alle tante presenze registrate in città. Ci sono sempre state questi momenti queste strette da quando diciamo dai primi anni 2000 ad oggi c'è sempre stato questo fenomeno sempre ci sarà e questa attenzione dovrà sempre esserci praticamente diciamo che con l'aumento dei flussi turistici a Salerno ci sono in questi giorni grandi grandi presenze questo perché c'è un overtourism generalizzato un po' su tutte le nostre località che da un lato aiuta e fa e da sicuramente riscontro turistico ad ogni località dall'altro crea comunque delle difficoltà perché non si riescono a gestire molto bene tutte queste questi arrivi e queste presenze che ci sono e automaticamente il fenomeno dell'abusivismo va di pari passo con questo con questo overtourism è un po' un cane che si morde la coda questo fenomeno andrebbe regolamentata anche la la gestione dei flussi ma è veramente molto difficile non ci riescono in costiera dove veramente c'è un grande afflusso quindi a Salerno che ne ha di meno rispetto alla costiera è ancora lontana da aggiungere a determinate gestioni e regolamentazioni torniamo in Irpini a Montella è concreto il rischio che i frati lasciano il convento di San Francesco a Folloni per far spazio a un ospedale di comunità il sindaco di Cassano Vecchia si ribella vediamo c'è il rischio che i frati francescani lasciano il convento di San Francesco a Folloni a Montella per far spazio a un ospedale di comunità lo dichiara il sindaco di Cassano Irpino Salvatore Vecchia che in un post su Facebook annuncia quanto potrebbe accadere nello storico convento montellese sarebbe una perdita incalcolabile per le comunità della Valle del Calore che hanno eletto il convento a luogo di condivisione non solo spirituale ma anche istituzionale chiedo al sindaco Buonopane di rivedere questa scelta esiste una idea del comune di Montella di individuare su un fabbricato che è all'atere del convento la sede dell'ospedale di comunità ora non voglio minimamente entrare nelle scelte del comune di Montella giusto per inciso sottolineo che gli ospedali di comunità sono esclusi dal PNRR quindi perdono quel canale di finanziamento che era previsto in ogni caso la individuazione di quel sito per questo tipo di opera sottrarrebbe a giudizio dei frati di quello spazio necessario per la loro attività francescana rivolta alle comunità della Valle del Calore quindi di 6-7 comuni ma soprattutto ai giovani e privati di questo spazio ritengono di non avere altra scelta che abbandonare il convento di San Francesco a Folloni e continuare la loro attività in un'altra sede verosimilmente Benevento ed era l'ultimo servizio di questa edizione di 8 Channel News grazie in regia ad Orlando Matarazzo vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.